Buonasera a tutti, grazie per aver accettato l'invito che abbiamo proposto per questa serata dedicata all'informazione. Parleremo stasera di Europa, di trattati europei, della moneta euro e di altri argomenti ancora ad esso collegati. Il nostro ospite è un giornalista che ha lavorato per dieci anni in RAI alla trasmissione Report, di cui è stato tra l'altro anche cofondatore. Ha lavorato inoltre per numerose testate giornalistiche nazionali, parliamo di carta stampate, quali il Corriere della Sera, Repubblica, il secolo XIX, il Manifesto, la stampa, solo per citarne alcuni. Negli ultimi dieci anni si è dedicato allo studio e ad un complesso approfondimento dei temi macroeconomici collaborando con economisti di fama mondiale, tra cui Warren Mosler, fondatore del Centro per la Piena Occupazione e la stabilità dei prezzi che ha sede presso l'Università del Missouri-Kansas City, Michael Hudson, docente anche lui presso la medesima Università del Missouri-Kansas City, Alain Parghese, professore prima classe presso l'Università France Conte a Besançon, Stephanie Kelton, che anche lei è un economista, è membro della Commissione federale statunitense per la riforma della Federal Reserve, la banca centrale americana. Io direi di non avere altro da aggiungere e lascerei la parola al nostro ospite Paolo Barnard. Grazie. Grazie, buonasera di essere qua. Completo la presentazione dicendo due cose. La prima che, come se fosse percepito dalle brevi parole, io non sono un giornalista di internet, lo dico tutte le volte che faccio una conferenza perché oggi l'informazione intesa come giornalismo è stata devastata dall'avvento della rete che ha portato alla ribalta personaggi che hanno un'apparenza autorevole per il pubblico poi in realtà non hanno mai fatto un minuto di vero giornalismo nella loro vita. Non è che i miei colleghi giornalisti l'abbiano mai fatto anche loro, però almeno dentro una redazione di un giornale ci sono stati. Comunque, la seconda cosa che aggiungo è che sono accompagnato da una correlatrice, si chiama Chiara Zoccarato, che è una delle primissime mie collaboratrici in Italia quando abbiamo cominciato a portare questo tipo di economia e ha la doppia qualifica di attivista ma anche madre di famiglia e questo è importante perché da quello che poi dirà Chiara capirete perché c'è l'importanza di questo suo doppio ruolo, mentre io sono un giornalista, non ho figli sostanzialmente non ho famiglia, faccio una vita molto strana, per cui uno può dire che magari chi viene a parlare questi intellettuali o comunque esperti che vengono a parlare non hanno una presa reale sulla vita di tutti i giorni. Io in realtà ce l'ho perché ho fatto tante cose nella mia vita, però comunque il doppio ruolo di esperta ma anche di madre di famiglia di Chiara è importante perché quando parleremo di cosa hanno fatto gli economisti alla nostra vita sociale. Ora vado molto avanti, spedito, cominciamo con un paio di cose, guardo l'ora, ecco 21.15. Questa Europa che abbiamo conosciuto era un gran bel sogno, ci è stato venduto come un progetto bellissimo che doveva rendere questo continente martoriato da divisioni, guerre, devastazioni per secoli, doveva renderlo qualcosa di nuovo, una nuova entità innanzitutto pacifica, poi anche economicamente valida. Quindi si è sempre detto, no? Le guerre si scatenano per l'economia, alla fine è l'economia che scatena le guerre. Bene, facciamo un'unione economica e vedrete che ci sarà la pace, la prosperità. Poi si era ovviamente nel 57, negli anni 50, prima con la ceca, poi la ce, poi la ce, eccetera. E quindi in quegli anni c'era la ricostruzione, c'era il sogno della pace, di concludere con questo incubo bellico che per due volte aveva devastato il XX secolo. Era veramente un bellissimo progetto. Purtroppo dietro si è nascosto invece qualcosa di molto sinistro, di orribilmente sinistro che era una vendetta, veramente una rivalsa, una vendetta e una rivalsa da parte di chi? Che il potere l'avevano perduto nell'arco del secolo, dalla fine del XIX secolo, dalla fine del XIX secolo fino all'inizio del XX secolo, fino all'arrivo delle democrazie. Dopo le due guerre c'è stata proprio una debacle molto storica, epocale, di chi ha sempre detenuto il potere sulla pelle di milioni di persone per secoli. Dietro a questo sogno europeo c'era in realtà il loro ritorno. È stato molto ben nascosto, molto ben pianificato e però degli accenni c'erano, ci sono stati, ce li siamo fatti sfuggire, per carità di Dio. Io per primo, vabbè che nel 1979 ero piuttosto giovane, però insomma nel 1979 abbiamo eletto il primo Parlamento europeo ed è sfuggito a tutti che si eleggeva un Parlamento che non poteva fare il Parlamento, c'era qualcosa sotto di strano. E leggiamo dei deputati che vanno in un Parlamento che non può fare le leggi. Beh, però questa cosa chissà com'è è scivolata via, non ci ha parlato nessuno. Magari a quei tempi qualcuno poteva, qualcuno con un po' più di anni di me, nel 1979 sto sempre parlando, poteva lanciare un allarme sui media o aprire un dibattito. Beh, ma perché si elegge un Parlamento che viene celebrato come l'inizio della democrazia europea era il fatto di deputati che non possono legiferare. Ma allora cosa stanno a fare lì? Non so, è come dire, facciamo una bella stalla, ci mettiamo tante mucche che non possono fare il latte. Beh, allora cosa stanno a fare queste mucche di dentro se non possono fare il latte? E quello era il primo campanello d'allarme che c'era qualcosa che non funzionava in questo progetto. Poi i campanelli si sono moltiplicati perché quando negli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80 abbiamo cominciato a sentire a parlare di questa Commissione europea, la Commissione europea, il Consiglio europeo, abbiamo cominciato a sentire a parlare di queste istituzioni. Di nuovo le abbiamo tutte accettate come il trionfo della modernità, il trionfo dell'unità europea. Poi finalmente questa bandiera azzurra con le stelle d'oro che ci diceva va bene, ognuno rimanga tedesco, ognuno rimanga italiano, ognuno rimanga spagnolo olandese, ma tutto sommato poi siamo fratelli di un nuovo paese che si chiama Europa dove i colori delle nostre bandiere andranno a sfumare e sempre di più avremo sul petto questa cosa azzurra con queste stelle che ci rappresenta. E avanti sempre con questi nuovi capitoli del progetto europeo che avanzavano sempre di più e pochi di noi si rendevano conto di cosa ci stava dietro. Infatti, ovviamente, erano gli anni in cui trionfavano, come ancora oggi, in gran parte trionfano, sui giornali e le politiche nazionali. E quindi tutto il dibattito sui partiti, le elezioni, le cose, boom boom boom, l'economia del paese, i fatti di cronaca, eccetera. E questi signori in Europa che continuavano a lavorare, a creare queste istituzioni strane, questi comitati, ma non solo a livello europeo, anche a livello mondiale. A Ginevra sorge questa Organizzazione Mondiale del Commercio. Sono tutti tecnocrati, tutta burocrazia tecnico-economica noiosa ma chi ne parlava? Chi è che ne discuteva? Quando mai c'è stata una puntata televisiva di un programma tipo Samarkand, con cui collaborai negli anni 90? Quando mai ci fu, che ne so, un qualsiasi altro che fece un approfondimento per gli italiani di che cosa stava succedendo in questi uffici strani di Bruxelles, di Francoforti, di Ginevra, in Lussemburgo e via dicendo, Strasburgo e via dicendo. Mai, infatti, questi hanno continuato a lavorare e oggi scopriamo, alla fine di un percorso, è come se ci fossimo svegliati all'improvviso, e oggi scopriamo che in realtà dietro all'Unione Europea e dietro a tutta questa roba c'è un colpo di Stato, un vero e proprio colpo di Stato antiparlamentare, anticostituzionale, antipopolo sovrano, proprio per antonomasia, antipopolo sovrano e ad accompagnare questo colpo di Stato antidemocratico, anticostituzionale, antiparlamentare, chiamate Europa Unita, c'è un colpo di Stato finanziario feroce, assolutamente spietato, che si chiama Eurozona. E oggi, dico oggi, veramente negli ultimi 5 minuti, perché eravamo partiti nel 57, negli ultimi 5 minuti apriamo gli occhi e il cittadino comune comincia a capire che questa Europa non va, che c'è qualcosa che non funziona, che non sta funzionando. Il racconto di cosa in realtà è successo, è un racconto molto lungo che noi abbiamo approfondito, abbiamo chiamato, era stato citato prima, uno dei massimi esperti del mondo, forse l'uomo che ne sa di più al mondo di questa storia, che è l'economista francese, l'economista francese Alain Parguev, vi faccio vedere la faccia perché l'abbiamo qua, è questo uomo che fu un grande economista, ma è stato anche un uomo di governo, un uomo di governo nel senso un tecnico nei governi di Mitterrand e lui, purtroppo si vede male la faccia, e lui è colui che veramente ci ha svelato tutto il progetto, il progetto storico di come nasce, di come si concretizza dietro il sogno europeo la vendetta, la rivalsa degli oligopoli di potere che una volta nelle vesti di principi, imperatori, re, regine, eccetera, eccetera, poi nella modernità trasformatisi in conglomerati di grandi industriali, gruppi massonici di potere, ma soprattutto grandi rentiers europei, grandi famiglie che avevano ereditato enormi ricchezze e in ultimo poi con l'ultima fase della modernità di speculatori finanziari moderni, ci ha raccontato Alain Parguev come questi gruppi di potere trasformatisi hanno, sono riusciti con questo disegno a recuperare, non dico il potere di una volta, perché ovviamente nessuno oggi si può reclamare nessuna industria neomercantile europea, nessuna industria, nessuno speculatore di hedge fund può dire ho il potere della regina Vittorio d'Inghilterra, oppure ho il potere di Richelieu, ho il potere di Luigi XIV, ho il potere del Metternich, chiaramente no, però hanno recuperato molto, molto del potere perduto e stanno adesso, stanno adesso arrivando alla conclusione del loro progetto, dove noi ci troviamo appunto, ci svegliamo alla mattina dell'ultimo giorno, dell'ultimo giorno dell'anno, la mattina del 31 dicembre, ci rendiamo conto che viviamo in paesi dove non c'è più democrazia, dove non c'è più sovranità parlamentare, dove non c'è più sovranità monetaria, e dove la fatica fatta dai nostri padri, dai nostri, o anche da persone che sono in questa sala perché hanno l'età per ricordarselo, la fatica fatta da chi è uscito dalla seconda guerra mondiale per creare un paese, un'Italia prospera, che diventò uno dei paesi più ricchi del mondo, viene smantellata, ma proprio viene, c'è una falcidia, ogni settimana che passa in Italia oggi, perdiamo dieci anni di lavoro fatto ai nostri padri dal 1948 a oggi, dai nostri nonni, dai nostri genitori, eccetera, dipende dall'età che abbiamo, ogni settimana che passa ne perdiamo un pezzo. Immaginate che c'è uno studio del Fondo Monetario Internazionale che dice che l'Italia per poter tornare oggi, se dovesse oggi immaginare di poter tornare ai livelli economici del 1995, dovremmo impiegare 60 anni. Abbiamo bisogno per ripartire da dove siamo stati distrutti, nell'arco di pochissimi anni, per tornare ai livelli del 1995, di ricchezza reale del paese, ci vorranno altri 60 anni. Ma ogni giorno che passa, dentro l'austerità dell'Eurozona, dentro questo colpo di risultato finanziario, si aggiungono 5 anni, cioè se stiamo altri 2-3 anni qua dentro, in questo disastro, ci vorrà un secolo per tornare all'Italia di una volta. Io per fortuna sarò morto, però per sfortuna i nostri bambini no. Chiara, se lo posso dire, ha due figli di 6-7 anni, uno di 6 e l'altro di 7 anni, se non mi sbaglio, ecco questi saranno i 50 anni, i 60 anni che si troveranno con un'Italia con altri 50 anni davanti per essere ricostruita. Ora, c'è stato questo inganno. Per essere un pochino più specifico, come è possibile che si sia riuscito a fare questa cosa in silenzio senza che nessuno se ne accorgesse, eccetera? Perché, come ho detto, la tecnica degli uomini di potere che volevano recuperare il potere perduto è cambiata. Ovviamente questa è gente che pensa, che usa il cervello e che, come abbiamo visto, come dicevo prima, non ha lavorato in pubblico, nessuno li conosce. Si è accontentata di gestire il potere nell'oscurità più assoluta. Non si sono fatti vedere, non hanno mai ambito di diventare il presidente del Consiglio di nessun paese europeo perché sapevano benissimo che è una carica dei puffi, è una carica da scemo quando nella realtà se stai chiusi in queste stanze di tecnocrity a pianificare il potere, riesci ad ottenerne un livello di potere che è 15 volte quello di un presidente del Consiglio. E come hanno fatto? Beh, hanno usato la testa. Prima di tutto hanno fatto due cose, sostanzialmente, perché non ci dimentichiamo che, io ho citato il 57, dal 57 in poi, ma non ci dimentichiamo che l'economia che ha portato l'Italia a essere da un paesello distrutto dalle bombe alla quarta o quinta potenza mondiale nell'arco di pochissimi anni, quell'economia era figlia di pensatori, fra pensatori politici, pensatori economici, ma anche filosofi, mi viene in mente Locke, tanto per dirne uno che io ammiro moltissimo, era frutto di pensatori che avevano portato, avevano dato, costruito le strutture delle democrazie, ma non solo delle democrazie, degli stati capaci di creare benessere per la democrazia. E quindi, che cosa hanno fatto questi uomini di potere che volevano sottrarci il benessere, la ricchezza, la democrazia e tutto, hanno innanzitutto sostituito questi pensatori con altri pensatori. Cioè hanno detto, se noi partiamo, se noi prendiamo questi uomini, che faccio vedere in breve, se noi prendiamo uomini come Knapp, come Keynes, come Lerner, mi sono dimenticato Kaleski, ma Kaleski è importantissimo, come Godley, Minsky, eccetera, se noi prendiamo questi pensatori, poi ci aggiungiamo Piero Sraffa, ci aggiungiamo John Robinson, ci aggiungiamo, vabbè, per non parlare di Marx prima, va bene, ma se noi prendiamo questi pensatori, che sono quelli che hanno costruito le economie e le democrazie moderne, così come le abbiamo conosciute fino a dopo gli anni Sessanta, cioè alla massima prosperità europea, se noi prendiamo e li eliminiamo dalla memoria storica, abbiamo già fatto la metà del percorso, li sostituiamo con qualcun altro, e come si fa a fare questa cosa? Beh, questi uomini con dei soldi hanno cominciato a costruire una serie di fondazioni, quello che io chiamo il piano di contiguità, cioè hanno detto da dove escono gli economisti, i pensatori, i filosofi, dall'università, come ci si arriva a un ministero, come ci si arriva a una carica politica importante, molto spesso passano proprio attraverso una formazione universitaria, dopodiché entri a far parte di circoli colletti bianchi, poi dopo entri nelle banche, poi dopo dalle banche passi ai ministeri, eccetera, noi dobbiamo eliminare dal sapere universitario non solo in Italia, in Europa, in America, questi uomini che ho fatto vedere, il loro pensiero, la loro filosofia, sostituirla con degli altri, ma naturalmente questo andava fatto non potevano fare dei golp universitari, cioè arrivare, non so, alla Bocconi piuttosto che arrivare ad Harvard, piuttosto che arrivare alla Sorbonne, piuttosto che a Louvain in Belgio, eccetera, e fare un golp, cioè sequestrare tutti, dovevano riuscire a farlo in un modo, diciamo, parallelo, un pochino più subito, e hanno creato delle para-università, cioè le fondazioni, le famose fondazioni, sono nate come funghi in America, negli anni 40-50, sono nate come funghi in Europa, sono nate come funghi in Italia, cos'erano queste fondazioni? Cos'erano queste think tank, questi gruppi di pensiero? Erano i luoghi che prendevano i brillanti, i giovani universitari, i promettenti, gli facevano fare i master, gli facevano fare gli approfondimenti, li introducevano nei salotti che contano, ok, e da lì poi li rimettevano nelle università come docenti o dentro le strutture che contano, banchi e ministeri come tecnici, tecnocrati o ministri, eccetera. Ah no, ho fatto questo lavoro dappertutto, cioè io ho scritto un libro che è disponibile gratuitamente, si chiama Il più grande crimine 2011, che racconta proprio la storia nei dettagli, con i nomi, con gli uomini, con le date di questo piano di contiguità, quindi lentamente il pensiero diciamo illuminato di uomini che pensarono alle economie democratiche come Keynes, Kaleski, Minsk, eccetera, vengono eliminati dalla formazione dei colletti bianchi, della politica, dei giornalisti, degli opinionisti, vengono eliminati e vengono sostituiti con altri uomini. è l'epoca degli economisti neoclassici, cioè è l'epoca degli economisti neoliberisti, è l'epoca dei monetaristi che partono soprattutto da scuole tedesche e americane, da Brunner a Friedman a Zian, Lucas, Sargent, questa gente, e diventano loro i pensatori dell'economia, ma naturalmente questi sono personaggi che insegnano un'economia che marcia esattamente al contrario dell'interesse pubblico. È fatta in modo per smantellare l'interesse pubblico e riportare in realtà la gestione del potere nelle mani delle oligarchie. Questa è la prima cosa che hanno fatto. La seconda cosa che hanno fatto mentre creavano queste correnti di pensiero è che dagli anni settanta in poi sono diventate dominanti fino a che oggi tutti dicono forse l'avete sentito anche voi sui giornali esiste in economia il pensiero unico sostanzialmente. Non c'è più altro non c'è più un secondo pensiero c'è il pensiero unico che è quello neoliberale neoclassico è quello delle austerità è quello dei monetaristi che citavo prima cioè laddove la politica economica non esiste più esiste solo la politica monetaria delle banche centrali e laddove le banche prendono un ruolo sempre più ampio nella creazione di ricchezza peccato che le banche creano debito fra l'altro questo sì va bene diamo potere alle banche per creare ricchezza privata però le banche creano anche dei debiti e dopo ci sono state le bolle dei debiti privati che hanno fatto esplodere interi paesi eccetera vabbè comunque abbiamo questa sostituzione di pensiero economico ma poi hanno fatto anche un'altra cosa che è ancora più tragica perché quando tu pianifichi un colpo di stato finanziario e un colpo di stato antidemocratico anticostituzionale e lo metti in pratica cominciando a lavorare a livello dei colletti bianchi dei politici dei media e cancellando dalla memoria storica i padri delle economie democratiche tu corri sempre il rischio che ci sia qualcuno che a un certo punto apre gli occhi e si sveglia e dice oi ma cosa sta succedendo quella persona che magari nel 79 avrebbe potuto dire ma perché eleggiamo un Parlamento europeo fatto da diputati che non possono fare le leggi ecco per dire corri sempre il rischio che ci sia un intellettuale che ci sia un gruppo politico che ci sia un economista che ci sia un gruppo d'opinione che ti metti bastone fra le ruote e che segnala all'opinione pubblica che sta succedendo qualcosa di molto sinistro alla democrazia e all'economia di un intero continente per non parlare dell'America perché altrimenti apriamo troppo il discorso stiamo sulla nostra Europa corri questo rischio e allora questi signori nella loro pianificazione hanno pensato di mettersi al sicuro anche da questa possibilità e hanno detto non basta solo cambiare il pensiero economico e sociale e indottrinare tutti per cui adesso tutti come macchinetti ripetiamo gli stessi slogan il debito pubblico il debito pubblico è un problema bla 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 e dobbiamo fare le riforme bisogna liberalizzare dobbiamo privatizzare non solo bisogna indottrinare ma bisogna anche creare una struttura una sovrastruttura che paralizzi tutto questo in una strada di non ritorno perché codifichi questo pensiero questa tendenza questo golpe in leggi nazionali e come facciamo a convincere i parlamenti di ogni singolo paese Lussemburgo la Grecia l'Olanda l'Italia la Gran Bretagna la Svezia eccetera la Spagna come facciamo a convincere tutta sta gente a codificare questo andamento addirittura in leggi e beh è un lavoro impossibile perché devi andare a parlare con quello con quell'altro con quell'altro con quell'altro cioè ci metti 200 anni se ci riesci allora cosa facciamo beh facciamo una cosa creiamo creiamo una bell'idea di un'Europa dei trattati questi trattati inventiamoci trattati europei e inventiamoci che per il bene del continente questi trattati europei abbiano un valore europeo sovranazionale cioè siano più potenti degli stati dei parlamenti e delle leggi nazionali e se nel testo di questi trattati europei ci mettiamo i nostri porci interessi dopo quando questi parlamenti di fessi li firmano e li ratificano senza leggere una singola pagina perché sono trattati da 2800 pagine ciascuno va bene quando questi fessi di questi politici del cauro li ratificano nel nome della modernità i nostri porci interessi diventano legge nazionale degli stati e li abbiamo fottuti tutti questo hanno fatto hanno pensato che cosa sono i trattati europei se non questo e nessuno ce l'ha detto il Corriere della Sera queste robe non le scriveva la stampa di Torino queste cose non le scriveva Radio Rai non faceva non invitava intellettuali non so politologi a discutere di sta roba niente semplicemente qui un giorno si saltava fuori che c'era un trattato che si chiamava non lo so il trattato di Lisbona oppure Maastricht oppure Fiscal Compact oppure Semestre Europeo oppure Six Pack dei nomi strani eccetera e il trattato di Marrakesh che cos'è arrivavano questi trattati bisognava il consiglio dei ministri oppure il consiglio europeo dei capi di stato e di governo arrivavano questi burocrati tecnocrati ecco c'è un trattato bellissimo qui dice più o meno questo allora tutti se li pigliavano questi faldoni tornavano a casa il Parlamento di Tatuc firma cosa c'era scritto nessuno lo sapeva c'era semplicemente scritto questo che innanzitutto l'ideologia la gestione economica degli stati dell'Europa diventava quella che vi ho descritto nei 20 minuti di 10 minuti precedenti cioè un pensiero unico dove lo Stato come creatore di ricchezza e protezione sociale doveva scomparire proprio togliersi dalle balle sparire ideologia neoliberalista classica proprio ok dove la moneta l'uso della moneta doveva scomparire anche quello dove le politiche economiche non dovranno più esserci ci dovevano essere solo politiche monetarie quindi banche centrali a fare tutto innanzitutto c'era scritta questa roba qua di dentro e poi cosa c'era scritto c'era scritto l'ho già detto che c'erano delle istituzioni europee che facevano leggi più potenti delle leggi nazionali che avevano stilavano delle cosiddette carte costituzionali più potenti delle costituzioni nazionali e che noi dovevamo accettare e punto e che avrebbero letteralmente esautorato i parlamenti nazionali e ovviamente di conseguenza il cittadino sovrano il quale non ha mai eletto sta gente non sa chi sono non ha mai eletto i trattati non è mai stato chiamato a un referendum per dire se questi trattati avevano un senso e se li approvava se li capiva eccetera c'è stato solo un caso solo uno che gli è sfuggito a questi a questi vampiri del gol finanziario europeo gli è sfuggito è stata la prima proposta di costituzione europea che i francesi perché ogni tanto in Europa qualche popolo ancora un po' sveglio esiste che i francesi e gli olandesi hanno scoperto e l'hanno bocciato dopodiché cosa hanno fatto ci hanno messo solamente due anni per riscrivere esattamente lo stesso testo chiamarlo al trattato di Lisbona rendono completamente illegibile e quindi siccome non era legibile Giuliano Amato nel 2007 lo dichiara la Reuters siccome non era legibile era impossibile sottoporre le cittadine ed era impossibile sottoporre il referendum per cui anche i buoni francesi l'hanno presa nel sedere e questa volta la costituzione europea è passata comunque c'è stato solo un caso in cui gli è andata male ma hanno recuperato nell'arco di pochissimo ma ecco che abbiamo i trattati europei dove si scopre che c'è un governo europeo non eletto da nessuno che si chiama commissione europea fatta da da qualcosa come 150 sottocomitati di tecnocriti che nessuno sa chi siano che è Marco Buti Marco Buti ha più potere di Letta ma ha 10 volte il potere di Letta nessuno lo conosce nessuno lo sa chi è ok adesso qualcuno perché è uscito da qualche parte conosce Bini Smaghi ma chi era Bini Smaghi prima? Sì tutti sapevano chi era non so Berlusconi chi era Gasparri chi era Bersani eccetera ma Buti chi è? Ecco allora abbiamo scoperto che ci sono che c'è questo governo europeo che si chiama commissione europea con tutti questi sottocomitati che fa delle direttive che sono leggi leggi a cui l'Italia e il Parlamento italiano è costretto a obbedire senza fiatare che il Parlamento italiano non può bocciare che neanche il Parlamento europeo può bocciare ok abbiamo una Corte europea di giustizia la cui giurisprudenza fa piegare la testa alla Costituzione dei paesi che hanno che hanno ratificato il Trattore di Lisbona quindi anche l'Italia e scopriamo quindi che la nostra impugnare brandire la nostra Costituzione oggi ha un limite ormai limitato mentre è la carta suprema della giurisprudenza dello Stato oggi non è più così perché una sentenza dal Corte europeo di giustizia prende la nostra Costituzione e la mette in un angolo punto scopriamo che in particolare nell'ambito dell'economia il nostro Parlamento non ha più potere sovrano di nulla non può più esaminare approvare o bocciare la legge di bilancio una roba da passi da passi la legge di bilancio viene scritta spedita spedita questo è il semestre è un trattato che si chiama semestre europeo nessuno l'ha votato nessuno sa cosa c'è scritto i parlamentari italiani non lo conoscono eccetera l'hanno semplicemente ratificato per la solita storia di prima il trionfo della modernità il governo oggi il governo oggi fa leggi di bilancio la manda a Bruxelles Bruxelles la esamina scrive le correzioni sulla legge di bilancio italiana e pensate che può succedere perché è un comitato a rotazione che non ci sia neanche un italiano presente in quel comitato cioè la legge di bilancio dello Stato italiano viene esaminata da tutti meno che degli italiani può anche succedere questo in commissione torna indietro il Parlamento a quel punto la riceve il Parlamento sovrano aspetta poi la riceve ok e deve applicare alla lettera le raccomandazioni della commissione europea se non le applica viene di nuovo esautorato non solo il Parlamento ma tutto il Paese ed entra in una procedura che si chiama la procedura del deficit eccessivo mi sto divertendo perché sto raccontando delle robe che sono robe da matti capito ma la procedura del deficit eccessivo è comparsa solo nell'ultimo anno e mezzo o meno di un anno e mezzo forse negli ultimi nove mesi sui giornali sui giornali quelli che leggiamo tutte le mattine ma non se ne era mai parlato noi la denunciavamo da tempo dicevamo guardate che noi possiamo essere commissariati dalla commissione europea al 100% dalla valle d'Aosta alla Sicilia con delle multe da 2 miliardi di euro a botta se non obbediamo alla lettera ai loro ordini cioè ma allora che senso ha avere un Parlamento a questo punto cosa vanno a fare i deputati i senatori là dentro non so ditemi qual è il senso e parliamo della legge di bilancio tanto per dirne una ma di esempi di questo tipo ce ne sono tantissimi cioè possono addirittura questi tecnocrati possono venire a sindacare sul prelievo fiscale sulle politiche salariali per esempio ci dicono vengono ci possono giudicare possono giudicare la produttività italiana in base al costo al costo al livello salariale loro possono dire il livello salariale italiano è troppo alto e infatti è crollato adesso il 23esimo posto nell'Ocse è troppo alto questo non va bene noi lo bocciamo dovete obbedire ai nostri ordini abbassare i salari pubblici e privati non fa differenza se no di nuovo ritornate nei guai tornate sotto alle procedure possono dire andiamo a vedere la spesa dello Stato italiano ok vediamolo lo Stato ha speso 100 soldi ok quanti ne spese per sanità servizi previdenza sociale sono i tre parametri che questi trattati questo è il fiscal compact sono tre parametri scusate questo è l'euro pact voglio essere molto preciso questo è l'euro pact si chiama euro pact questo trattato sono i tre parametri secondo cui la commissione europea poi il fondo monetario e la BCE di fianco giudicano la spesa dello Stato italiano non è che vanno a vedere altro vanno a vedere quanto spendiamo in ospedali in asili nido in appunto previdenza protezione sociale se spendiamo oltre il limite dal loro sancito ci bocciano e questo è un altro dei divertentissimi capitoli di questo golpe antidemocratico antiparlamentare anticostituzionale che stiamo subendo in ultimo come ho detto hanno appunto voluto cementificare questa contro-revoluzione antidemocratica antisociale ideologica di cui parlavo prima con questi trattati e poi l'ultimo l'ultimissimo in ordine di tempo è questo famoso benedetto euro che arriva perché ho citato tanti nomi ma il lavoro forse detto anche velocemente il trattato di Maastricht no? è quello che ha portato all'Italia nell'eurozona ed ecco che arriva l'eurozona arriva l'euro l'euro è il compimento finale di questo golpe perché avendo sottratto oltre appunto tutte le sovranità di cui parlavo prima politiche parlamentarie democratiche costituzionali avendo sottratto anche la sovranità monetaria all'Italia come agli altri stati ha proprio la finita cioè come dire no? non c'è rimasto più niente io dico sempre faccio lo ho detto anche dico sempre è come prendere un padre di famiglia lo Stato gli togli il portafoglio il banco la carta di decreto il libertà di segno il conto in banca gli togli gli ridai il portafoglio vuoto poi gli dici vai vai in casa vai nutri tuoi figli forse e come fa? come fa uno Stato privato della sovranità monetaria a regolare la propria economia capite che è finita non c'è più niente da fare non è più uno Stato non abbiamo più un Parlamento abbiamo uno Stato che non serve più a niente il Ministero del Tesoro è una barzelletta ci potremmo andare a giocare a briscola il Ministero del Tesoro non ha più senso per l'economia perché tutto è deciso fuori non abbiamo più neanche una moneta adesso abbiamo questa moneta straniera che si chiama Euro che non è più ovviamente emessa dall'Italia come l'Italia emetteva la lira come la Germania e il Marco come ancora oggi la Svezia emette la corona come ancora oggi l'Inghilterra emette la sterline abbiamo questa moneta che è di qualcun altro che è straniera che non è emessa da noi che è emessa da un gruppo di banche centrali anche questo è divertente nella confusione nella nebbia della creazione dell'Europa improvvisamente è comparso la BCE allora tutti distratti a parlare di Berlusconi piuttosto che di Prodi o di D'Alema capito improvvisamente sentiamo questo nome la BCE la banca è una grande banca boh cosa fa la BCE non si sa ma si vede che è così è appunto di nuovo è una bella banca che sta all'Eurotaur a Francoforte faranno delle belle cose ci dà prestigio abbiamo come gli americani hanno la Fed noi abbiamo la BCE ma che cosa fa la BCE la BCE crea gli euro e cosa fa con gli euro li dà le banche alle grandi banche internazionali e le grandi banche internazionali cosa fanno con gli euro li prestano a tassi d'usura agli stati che li devono usare incluso l'Italia questo è quello che sta succedendo e questo è l'ultimo capitolo del gol finanziario perché quando tu hai uno Stato in queste condizioni che non è più in grado di gestire una politica economica perché non ha più una moneta con cui gestirla dopo è finita perché tu hai il meccanismo principe principe della creazione di economia che è la spesa dello Stato quello che io chiamo il finanziatore di prima istanza che non esiste più e allora a quel punto tu hai i cittadini che devono fare due cose per sopravvivere o andare a prendere presti in banca nelle finanziarie indebitarsi o erodere i risparmi vediamola un po' meglio questo passaggio del gol finanziario con un disegno perché non è scontato che sia chiaro a tutti allora torniamo un attimo indietro torniamo a che cos'era uno Stato che cos'era l'Italia prima dell'arrivo di questa ennesima sovrastruttura golpista che questi poteri hanno voluto creare per cementificare le loro conquiste per renderle indissolubili allora questo è lo Stato mettiamoci la parola governo perché è il governo che gestisce la cosa pubblica quando il governo è sovrano è il monopolista della moneta gli americani creano i loro dollari non li vanno a prendere da nessuno i dollari che gli americani diciamolo subito perché c'è sempre quello che alza la mano e va in Cina i dollari che gli americani prendono in Cina sono i dollari che gli americani hanno dato alla Cina non è che la Cina fabbrica dollari non ci confondiamo allora dunque il governo è il monopolista della moneta crea gli italiani l'Italia creava la lira letteralmente dal nulla il governo è il monopolista della moneta e è il gestore del paese il paese è questo e si chiama Italia stiamo sempre parlando di che cos'era lo Stato prima del golpe finanziario allora voi dovete capire che questo signore è il monopolista della moneta noi italiani tutti noi professioni aziende famiglie chiunque sta qua dentro anche le banche anche le banche creatori di moneta ma poi specifico stiamo qua dentro noi qua dentro non possiamo creare la moneta perché se no arrivano dei signori con una divisa ci arrestano perché siamo dei falsificatori non la possiamo creare è impossibile il bene finanziario è non creabile dal settore non governativo dal settore che è il paese l'unico che può creare il bene finanziario è il monopolista della moneta che ha la banca centrale che ha la famosa zecca di Stato eccetera allora lui crea la moneta e cosa fa? la spende la immette laddove la immette laddove la moneta non può essere creata la spesa dello Stato è l'atto con cui la moneta si materializza nel popolo nella società è il momento in cui si materializza la prendiamo nelle nostre tasche e poi il governo lo Stato fa un'altra cosa tassa quindi ne mette spendendo e ne toglie tassando è logica pura pensare che non possono essere le tasse a finanziare la spesa dello Stato perché è impossibile prima lo Stato ci deve dare i soldi e poi ce li toglie in tasse quindi intanto mettiamo da parte la fandonia che le tasse finanziano le spese dello Stato ma torniamo a questo Stato chiamiamolo virtuoso che con la spesa pubblica crea economia all'interno del Paese non c'è altro modo non esiste un altro modo al mondo per creare economia in un Paese se non iniziando da questo processo a meno che non diciamo ok allora mettiamo da parte questo processo barattiamo carote patate scarpe non so zolle a terreni viviamo di baratto allora è un altro discorso ma se vogliamo vivere nella civiltà moderna l'unico modo per partire la macchina dell'economia è la spesa dello Stato che mette beni finanziari all'interno del Paese con questi beni finanziari si fa economia si creano si creano i beni reali quelli di cui poi noi tutti viviamo i vestiti le case le macchine il mangiare eccetera poi lo Stato tassa sottrae uno Stato che voglia creare che abbia il potere sovrano di creare economia nel Paese deve essere sempre molto attento a come vanno queste due frecce perché è chiaro che se io immetto denaro qua dentro e ne tolgo altrettanto io qua lascio veramente zero un poco cioè non creo una grande economia ok attenzione che ci torniamo a questo se addirittura metto denaro e ne tolgo di più di quello che ho messo qui andiamo nel panico perché dobbiamo andare ad arrabattarci col debito delle banche o con l'erosione dei risparmi per dare allo Stato al governo più denaro di quello che lui ci ha immesso ma come dicevo prima quando sei il monopolista della moneta e hai sale in zucca cosa fai? è chiaro che fai il processo contrario ai due che ho appena descritto cioè metti più moneta più beni finanziari nel Paese di quelli che togli in tasse e in questo modo tu crei l'economia prospera questa è la funzione di quello che io chiamo il finanziatore di primi stanza in uno Stato ed è questo che è stato distrutto con l'eurozona perché con l'eurozona questa cosa non c'è più perché il governo lo Stato non può più creare la moneta la deve andare a prendere in prestito dalle banche a tassi di interesse decisi dai mercati e allora dopo è nell'affanno di far scendere delle goccioline di finanza qua dentro ma poi ritirarle subito indietro perché deve restituirle ai mercati dei capitali da cui lo Stato ha preso i soldi capite cosa ha fatto l'eurozona capite che razza di crimine contro la società è stata l'eurozona ha sottratto totalmente il potere virtuoso dello Stato di essere finanziatore di primi stanza che spende cento soldi per l'Italia tassa 70 ne lascia 30 per il nostro bene la nostra ricchezza la nostra economia reale gli ha completamente distrutto questa capacità l'ho messo nelle condizioni di dover spendere 10 e tassare immediatamente 10 perché deve ripagare i soldi che ci dà a qualcun altro che sta sopra questa è la struttura dell'eurozona una catastrofe poi uno dice ma perché l'Italia si è impoverita ma perché oggi noi che eravamo la quarta quinta potenza del mondo oggi abbiamo i ventitresimi salari dell'Ocse perché abbiamo 140.000 aziende che falliscono all'anno perché abbiamo il 42% di usugubati giovanili una roba africana una roba argentina una roba da Sud America perché si è messo così ma per forza tu hai distrutto la capacità dello Stato di fare economia l'hai distrutta ecco il gol finanziario di questi poteri e abbiamo messo anche lì un'altra cosa di questi trattati micidiali il Fiscal Compact che ci ha detto il pareggio di bilancio va messo in Costituzione e tutti i cretini in Parlamento senza aver letto una pagina del Fiscal Compact ratificano ed ecco che il pareggio di bilancio va in Costituzione e torna a quello che dicevo prima ragioniamoci ancora ragioniamoci ancora noi i soldi qua non li possiamo creare ce li deve dare lo Stato i soldi se lo Stato dà 100 e tassa 100 cosa ci rimane qua? zero non ci rimane nessun bene finanziario al netto come fanno le aziende a lavorare? come fa la gente a spendere? come fanno le famiglie a mantenersi? se col pareggio di bilancio abbiamo zero beni finanziari qui dentro ci occorre sempre lo stesso denaro le banche creano denaro ma creano debiti lo Stato quando spende 100 e tassa 70 e lascia 30 qua dentro non c'è un debito di nessuno sono 30 denari 30 soldi al netto in più nel paese che non è debito di nessun cittadino di quel paese è un credito punto e basta quando tu vai alla banca a creare 30 denari crei 30 denari di debiti e allora capite cosa succede? succede che col pareggio di bilancio messo in costituzione ulteriore calcio al cranio di questa economia distrutta di un paese che non è più sovrano noi italiani siamo oggi costretti ad andare a chiedere prestiti alle banche o a erodere i nostri risparmi disastro una catastrofe e voglio farvi vedere una cosa che assolutamente dal mio punto di vista no perché poi queste affermazioni vanno sostanziate con cose precise guardate guardate questi grafici molto rapidamente questi sono dati presi dalla ragioneria dello stato italiano lo voglio dire perché noi non pigliamo i dati da così neanche dai giornali andiamo alle fonti andiamo alle fonti precise guardate questa cosa un attimo solo questa è una tabella dell'Ocse che parla dei risparmi delle famiglie e fa una comparazione internazionale si parte dal 1980 c'è il 1990 c'è il 2000 e poi si arriva oltre ma purtroppo lì non si vede perché c'è vabbè comunque 2001 l'Italia nel 1980 con la lira e con lo stato che faceva precisamente questa formula cioè spendeva di più di quanto tassava faceva deficit di bilancio e creava debito pubblico ok no debito di stato non pubblico l'Italia era un paese con il 25% di risparmio medio per famiglia era il più grande risparmio al mondo eravamo le famiglie che risparmiavano di più al mondo e non eravamo poveri non è che risparmio però vivono nelle capanne no 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 l'Italia è un paese ricco ricco uno stipendio di allora manteneva una famiglia comprava una casa mandava i figli all'università l'equivalente dei 1200 euro di oggi allora veramente mandavano avanti una famiglia oggi con 1200 euro vai alla Caritas va bene guardate cosa è successo al risparmio italiano scusate guardate cosa è successo al risparmio italiano ah dove è finito ecco questa è ah 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 scusate eccolo qua guardate cosa è successo al risparmio italiano nel corso degli anni in cui sono arrivati i governi tecnici dopo Tangentopoli e hanno tentato in tutti i modi di fare i pareggi di bilancio cominciando da Amato grandi distruttori dell'economia italiana non solo l'economia finanziaria ma anche quell'industriale fra l'altro guardate cosa succede al risparmio italiano da dopo Tangentopoli in poi negli anni nel 90 91 92 noi eravamo ancora un paese il primo o il secondo risparmiatore al mondo quindi eravamo ancora ricchi guardate la parabola discendente catastrofica del risparmio italiano che dai livelli del 21 22 per cento arriva nel 2009 a un misero 6,8 oggi siamo sotto al 5 per cento di risparmio cosa è successo quello che vi dicevo prima se questa operazione virtuosa dello Stato viene meno o andate in banca a indebitarvi o andate a succhiarvi i risparmi questa è una tassazione occulta degli italiani di livelli epici epici di cui nessuno ha mai voluto parlare e questa sarebbe sufficiente a far scendere in piazza gli italiani e dire ma cosa ci avete fatto oltre a pagare le tasse va bene che molti non le pagano ma oltre a pagare le tasse per quelle che le hanno pagate noi se abbiamo avuto una tassazione occulta dalla nostra ricchezza che è una cosa spaventosa e non è neanche quantificabile in cifre sono centinaia o migliaia di miliardi che sono scompassi le nostre tasche proprio perché questa ideologia economica di cui ho parlato da adesso fino ad adesso ha interrotto la funzione virtuosa del finanziatore di prima istanza fin da quegli anni quando ci dicevano che arrivavano i tecnici a risollevare le sorti dell'italia ad eliminare il debito pubblico a ridurre il debito pubblico eccetera hanno interrotto questa funzione poi è arrivata l'eurozona e l'ha distrutta del tutto ecco dove ci troviamo oggi ci troviamo in questa situazione e guardate che adesso parlarne è facile noi queste cose dicevamo anni fa che cosa che cosa c'è da sottolineare ancora oltre a farvi vedere nella seconda parte sarà breve alcuni altri dati c'è da sottolineare quello che io chiamo e mi piace chiamare il tradimento degli intellettuali perché vi ho raccontato una storia framezzata con dati con esempi con schemi di macroeconomia il più semplice possibile per far capire cosa c'è successo e perché oggi viviamo in questa crisi mostruosa che sta mangiando il paese ma come dicevo prima ci poteva essere qualcuno che capiva la situazione e faceva creava movimento d'opinione ma perché questi professori universitari si sono fatti mangiare la testa mangiare la coscienza perché le cose le sanno che cosa è successo a questa gente perché gli intellettuali non si sono mossi oggi noi abbiamo in Italia tutta una serie di economisti e in questo caso gli economisti ricordatevelo sono come i medici di casa come i medici di famiglia gli economisti sono quelli che hanno in mano la vostra vita perché creano distruggono la vostra vita dallo stipendio al tasso del mutuo dalla quantità di beni materiali che ha un paese per poter costruire le case tutto i posti di lavoro l'occupazione allora perché si sono fatti mangiare il cervello la coscienza e perché ce ne sono invece altri che sono completamente coscienti di questo e non fanno nulla perché c'è stato il tradimento degli intellettuali io vorrei che Chiara adesso ce lo raccontasse con le sue parole perché credo che questo sia uno dei capitoli più vergognosi di questa vicenda i medici coloro che dovevano andare sulle barricate della malattia come fanno i medici quando ci sono le epidemie a curarci si sono rinchiusi nei loro studi e hanno fatto finta di non esserci perché? allora io questa sera volevo fare una riflessione con voi come ha detto Paolo io sono una persona semplicissima faccio l'impiegata sono mamma di due bambine ho passato la cassa integrazione la disoccupazione sono arrivata a dover perdere anche la casa per cui so perfettamente che cos'è la crisi economica quindi sono molto arrabbiata e allora ho pensato alcune cose prima di tutto ho pensato che cos'è davvero l'economia effettivamente che cos'è l'economia l'economia è tutto è far la spesa accendere la luce avere il riscaldamento in casa avere un letto per dormire è proprio la sopravvivenza basilare degli esseri umani senza la quale non esiste neanche il resto cioè non esiste neanche la vita affettiva non esiste niente non esiste l'arte non esiste la cultura ora non esiste niente senza di quella e incide talmente tanto l'economia che non la possiamo definire una scienza speculativa non ha niente a che fare con la filosofia neanche con la matematica anzi ha degli effetti talmente diretti sulla salute del corpo sociale ed economico di un paese che come anticipava Paolo secondo me è molto più simile alla medicina e più del medico l'economista è molto più importante perché il piano economico influisce in tutti gli aspetti della mia vita che sono il tasso del mutuo e sono anche anche lo stipendio che prendo a fine mese perché anche quello viene definito dall'economia per cui io dico lo facciamo fare ai medici ancora di più lo dovrebbero fare gli economisti il giuramento di Ippocrate quello famoso primum non nocere anche solo per fargli rendere proprio conto della responsabilità sociale che hanno perché poi è l'intera collettività che paga sulla propria pelle i loro errori e direi che purtroppo finora sono sempre rimasti impuniti sono gli economisti sono queste grigie figure che stanno al sicuro delle loro università e a cui nessuno ancora fino adesso è andato a chiedere di rendere conto di quello che dicono e questi signori alcuni di questi scrivono proprio quasi dei veri pizzini e li consegnano alla politica e sono scritti su commissione di gruppi di interesse ben specifici perché si sa che la struttura economica che si impone a un paese l'abbiamo appena visto poi determina senza grandi margini di errori inutile ci facciamo illusioni chi mangia e chi no e alcuni di questi signori vorrebbero tanto che l'Europa tornasse all'Ottocento quella dei grandi gruppi industriali delle compagnie Stato come era la compagnia delle Indie sovranazionale che batteva anche moneta solo che era l'Europa anche degli Oliver Twist e delle piccole fiammiferaie che morivano per strada tanto a questi signori ne frea niente loro dicono che sono degli studiosi e la colpa è dei politici poi alla fine la colpa è dei politici e dico sì certamente la colpa è anche dei politici ci mancherebbe anche perché alcuni sono complici perché hanno la stessa committenza cioè gli stessi gruppi di interesse e poi perché alcuni non studiano quindi non si rendono nemmeno conto di quello che appunto firmano delle leggi che buttano poi al paese anche se a volte gli scoppiano in mano perché poi la gente il malcontento lo devono affrontare e a proposito di quanto può influenzare questa teoria io vorrei ricordare un attimo quello che è successo con il caso Kenneth Rogoff non so se l'avete già sentito questi sono due economisti che hanno scritto un libro che su cui poi è basata tutta la politica di austerità non solo europea anche in America la giustifica completamente solo che è venuto fuori che questi signori si sono un po' inventati i dati nel senso hanno fatto un bel pasticcio hanno raffazzonato i dati che gli interessavano gli altri non li hanno neanche guardati perché il risultato finale doveva essere quello doveva essere che un paese non può superare il 100% del debito perché altrimenti poi l'economia si restringe a dei problemi per cui andava a giustificare l'austerità ai tagli bene questi signori sono stati sbugiardati e a loro non è successo niente sono ancora lì sono ancora tranquillamente nella comunità accademica e sono dei rinomati professori complimenti poi dico oltre a questi criminali in doppio petto grigio che hanno anche appunto la rispettabilità accademica ci sono quelli che sanno quanto sia sbagliato il paradigma attuale e mi riferisco ai marxiani marxisti post keynesiani tutta quella branca di economia lì che però pensano che sia sufficiente il loro impegno nelle università ai convegni che basti scrivere un libro tutto lì cioè questi vedono e denunciano l'errore puntano il ditino ma non vedono l'orrore cioè questi non sentono hanno testa e non hanno cuore cioè non vedono che dietro i numeri ci sono degli esseri umani cioè noi noi e che è urgente e doveroso intervenire subito per fermare la ruota di tortura e si arrivano le trasmissioni quelli che li ospitano con la faccetta bella pulita no? sorrisetto olimpico a volte anche un ghigno di soddisfazione e dicono ah ma io di questa situazione io l'avevo già vista avevo già previsto tutto ancora nel 2008 che ho scritto il paper numero 75 lo potete trovare sul sito dell'università di toronto bene perché tutti noi andiamo a leggerlo ovviamente poi in inglese e poi ho anche scritto un manifesto di tutti gli economisti i miei colleghi e l'abbiamo mandato anche al ministro bravissimo però io avrei una domanda da fare a questi signori quando poi il ministro non vi ha risposto voi che cosa avete fatto? cioè avevate previsto che stava arrivando la peste nera qua in Europa da noi avete avvisato il ministro e a noi alla gente non ci avete detto niente cioè siamo siamo noi che moriamo per primi quelli che vengono colpiti dall'epidemia che moriamo per strada noi a noi non hanno detto assolutamente niente forse avranno fatto qualche intervista a Radio 24 magari avranno detto sì forse con queste politiche ci sarà una contrazione della domanda aggregata e voi che ascoltavate ma è compresa il tempo sicuramente non ho capito che significava che il mio stipendio sarebbe valso la metà di quello che era prima che avrebbero tagliato la scuola la sanità da pazzi e che questa sarebbe stata la crisi economica più terribile che uno si poteva immaginare sono rimasti lì a guardarci morire noi l'abbiamo saputo di questa cosa qua da un giornalista mica dagli economisti da un giornalista Paolo Barna ma aspettate perché poi noi che siamo gente che non ha molti peli sulla lingua noi li abbiamo accusati di omissione di soccorso e loro dicono rispondono che loro sono dei consulenti sono dei tecnici che cosa dovevo fare io io sono qua a disposizione nessuno mi ha chiamato certo se il politico mi avesse ascoltato se mi avesse dato magari un posticino o qualche commissione avrei forse cambiato qualcosina e dico va bene aspetti il politico illuminato se era tanto illuminato ti veniva a cercare lui no? invece no non ci si arriva a questo e vorrei raccontarvi un attimo il cinismo di questi campioni che adesso fanno appunto i campioni della salvezza nazionale nelle trasmissioni allora ho incontrato uno di questi economisti dietro le quinte alla gabbia che gira tra l'altro con la spilletta del Rotary e lui nella trasmissione gli aveva gettato un po' una provocazione gli aveva detto ma senti ma perché tu e il tuo compagnuccio non parlate mai di piena occupazione e io gliel'ho girata questa domanda gli ho detto perché non parlate mai di piena occupazione e voi e mi fa e beh perché voi della mia MMT siete molto utili perché avete portato il linguaggio economico alla gente perché prima non capiva adesso avete fatto tutta questa questa educazione che c'è utile perché poi adesso finalmente riescono a capire anche quello che diciamo noi forse però voi non capite i macro aggregati cioè tutti questi stipendi tutta questa disponibilità finanziaria e poi sapete cosa succede e poi la gente va a comprare all'estero e dopo si crea uno squilibrio nella bilancia dei pagamenti mamma mia terribile e io l'ho guardato e ho pensato che io lavoro in un'azienda che esporta e noi abbiamo degli stipendi che sono da fame perché le aziende che esportano non ho bisogno di tenere gli stipendi bassi e io ho guardato e pensavo al mio stipendio ridotto all'osso e gli ho detto senta guardi nel suo discorso c'è qualcosa che non mi convince sa perché a parte il saldo delle partite correnti che altri economisti hanno smontato in 30 secondi io se avessi un po' di più soldi sa cosa farei? correrei a fare la spesa all'esse lunga invece che al Lidl vede che è il contrario è stato zitto infatti non c'era molto da dire allora anche per loro siamo dei numeri che devono stare nelle caselline che loro hanno stabilito se no gli andiamo a scomporre il quadro gli disturbiamo i macro aggregati per cui io dico una cosa la responsabilità morale di tutto questo di tutto questo che è successo ricade su tutti quelli che hanno teorizzato e spinto per l'ineguaglianza sociale quindi quegli economisti lì ma anche per quelli che sapevano che il risultato di queste ricette era la morte dell'economia nazionale e non hanno fatto niente forse a qualcuno può sembrare una polemica inutile però guardate che non è non vuole essere una polemica non è neanche inutile questa è una questione di principio perché la responsabilità morale di chi ha a che fare con la vita delle persone è fondamentale perché è venuta a mancare questa e questo è il principale motivo per cui noi siamo arrivati al baratro senza che ci fosse nessun attrito ci siamo andati giù dritti come l'olio perché questi non hanno posto resistenza ed è il motivo per cui non riusciremo ad uscirne perché finché noi saremo solo percentuali e numeri lo scontro tra i sistemi economici sarà per forza solo e esclusivamente sul piano delle formule sul piano speculativo e allora lo combatteranno solo sulle riviste specializzate i conveni alle università dove abbiamo visto che i nostri avversari quelli che vogliono l'Europa dell'Ottocento hanno buttato i soldi quindi lì loro hanno comprato le università hanno comprato i professori hanno comprato i politici lì non possiamo vincere non ce la possiamo fare e allora è sempre come è sempre stato nei bollettini di guerra gli esseri umani vengono contati a centinaia a migliaia a milioni sempre come caduti perché chi scrive non è mai andato a raccogliere i pezzi questa gente qua non vede le persone non capisce non sente il dolore che c'è dietro la sofferenza perché se lo sentisse se lo sentisse si muoverebbero e ingaggerebbero battaglia in campi dove c'è qualche possibilità di vittoria quindi fuori dall'università si tenta il tutto per tutto ci si mette la volontà e la voglia di farcela perché c'è questo bisogno di riscatto quando c'è il dolore allora io voglio dire che veramente dobbiamo tornare al valore sociale ed umano del ruolo degli economisti e poi abbiamo bisogno davvero di portare verità compassione e volontà altrimenti la storia non riusciamo proprio a cambiarla ci tocca tenerci questa guardate che guardate questa cosa qua un attimo guardate questa adesso questo anche questo sarebbe divertente ma i tempi sono stretti guardate questo grafico che può sembrare difficile è un grafico della banca d'Italia questo è quello che è successo alla piccola media industria italiana nel momento in cui questo signore è stato distrutto nella sua capacità di creare ricchezza qua dentro entriamo nell'eurozona entriamo nell'euro siamo all'inizio del 2000 l'Italia è linea marron come produzione industriale il primo paese d'Europa questo è un grafico anno su anno ma il significato non cambia è il primo produttore in Europa la Germania è l'ultima guardate dopo questi infami undici anni di eurozona come siamo ridotti siamo al penultimo posto in Europa e la Germania al primo posto il meccanismo per cui questo è successo sarebbe anche abbastanza semplice da spiegare perché chiede un po' di tempo ma fra cui anche una delle cose che ho detto in trasmissione alla Gabby i tedeschi hanno barato in maniera vergognosa mentre chiedevano a noi di smantellare i nostri sussidi pubblici all'industria loro hanno finanziato con sussidi pubblici della loro industria ma a parte questo la cosa che ci deve raccontare questo grafico è che questa è stata la terza guerra mondiale dell'economia europea e chi l'ha vinta questa volta il paese che ne ha perso le prime due attenzione che non stiamo scherzando cioè siamo e lo voglio dire che sia chiaro a tutti siamo in una situazione dove è avvenuto il colpo di stato anticostituzionale antiparlamentare e finanziario che serve le famose tre classi di oligarchi cioè gli speculatori delle sidle finanziari i grandi le grandi industrie non mercantili e i privatizzatori selvaggi che possono essere di tanti paesi ma il primo diciamo la prima il primo a vincere questa questa terza guerra mondiale è stata la Germania sulla sulla testa e sulla sofferenza e di tutti lasciamo stare quello che succede in Grecia che è orrendo lì siamo veramente a un genocidio di un popolo ma per carità di Dio non lo lasciamo stare nel senso non per mancanza di compassione ma perché qui siamo in Italia e adesso cerchiamo di parlare di noi italiani come dicevo all'inizio se continuiamo in questo modo i danni diventano irreparabili non per 60 o 100 anni ma per secoli questo è il bombardamento di Cassino dell'economia italiana non stiamo scherzando qua qui stiamo parlando di decine centinaia di miliardi di posti di lavoro persi vuol dire crollo di consumi vuol dire negozi che chiudono vuol dire che tu hai qui il negozio qua fuori che dice 70 siamo prima di Natale 70% di sconto non sarebbe mai successo non era mai successo dal 1948 non succede una roba del genere in Italia io l'anno scorso passavo davanti al più grande negozio di giocattoli della mia città a Bologna a tre negozi questo è sempre stato un gigante della vendita di giocattoli questi facevano i saldi prima di Natale siamo a questo e poi molto peggio ecco questo è il bombardamento di Cassino dell'economia italiana dobbiamo veramente riprendere la situazione nelle nostre mani allora ribadisco un concetto che per la Mosul Economics Modern Money Theory è assolutamente fondamentale noi vogliamo tornare a una situazione dove questo signore che si chiama lo Stato il Governo faccia il suo lavoro sia il finanziatore di prima istanza del settore privato italiano cittadini aziende famiglie questo non vuol dire e lo dico agli italiani quindi ci stiamo capendo al volo non vuol dire che vogliamo ritornare ad avere lo Stato che abbiamo sempre conosciuto no stiamo calmi va bene in questo progetto non c'è lo Stato che peraltro poi voglio dire prima degli anni 90 non è che qualcosina di buono l'ho anche fatto no no non parliamo dello statalismo non parliamo vogliamo di tornare a una situazione dove creiamo una bolla pubblica di tutto che diventa un bubone pubblico ingestibile insomma non vogliamo tornare ad essere sovietici che non lo siamo mai stati voglio dire non è quello che noi chiediamo noi vogliamo tornare a quella che è la Mosul dell'economics modern money theory e ai padri precedenti grandi economisti hanno sempre teorizzato come diceva Kaleski negli anni 40 una cosa di una modernità assoluta questo signore lo Stato deve diventare il termostato dell'economia privata è un guardiano dell'economia privata perché l'economia privata non è vero che può creare ricchezza è una bugia creata dall'ideologia di cui ho parlato all'inizio della mia relazione non può creare ricchezza l'economia privata semplicemente perché il denaro che circola nell'economia privata è sempre lo stesso metteteci tutti i moltiplicatori che volete ma l'economia privata non lo può fare e anche perché l'economia privata è prociclica che cosa vuol dire quella è che queste sono parole che possono sembrare difficili ma sono semplicissime il cittadino del taxi del negozio l'infermiere il dentista devono imparare queste parole l'economia privata è prociclica vuol dire che va col ciclo economico prociclo se l'economia va bene il privato investe assume crea un po' di ricchezza anche se comunque si tratta sempre di denaro che gira in tondo qua dentro perché qui non lo possiamo creare ma comunque assume comunque investe ma se arriva uno shock economico e l'economia va male l'economia privata è prociclica il ciclo economico va in ribasso e smette di assumere e smette di investire e cala gli stipendi non può tutelare l'economia del paese il lavoro dei vostri figli è impossibile cos'è successo nel 2007 scusate se dico delle balle cos'è successo è successo perché dall'america arriva lo tsunami perché c'è il disastro finanziario americano ok che arriva sbaracca le banche europee quindi arriva un'ondata orrenda di fango e calcinacci che investe l'Europa l'economia europea prende una botta bestiale e cosa ha fatto il settore privato pro ciclico le banche hanno smesso di fare crediti hanno chiuso i crediti le aziende hanno cominciato a licenziare hanno chiuso hanno smesso di fare gli investimenti gli stipendi sono crollati eccetera e allora noi vogliamo che invece quando arriva lo tsunami dalla Cina perché arriverà prima o poi quando oppure se eravamo in queste condizioni nel 2007 quando è arrivato lo tsunami economico americano questo signore qua che non è il settore privato è l'unico in queste condizioni di sovranità a poter essere anticiclico ecco che è il finanziatore di primi stanze il termostato dell'economia privata che nel momento in cui arriva l'onda di fango che investe nell'economia privata gira il termostato della spesa e l'aumenta non la diminuisce perché il deficit di bilancio come abbiamo dimostrato prima è la ricchezza di questo settore non l'indebitamento di questo settore è esattamente il contrario di quello che vi raccontano allora il finanziatore di primi stanze è il tutore il termostato il guardiano dell'economia privata non è uno stato bolla pubblica enorme non è statalismo quello di cui stiamo parlando sia chiaro a chi ci ascolta perché è facile dopo di ammessi sono quelli della mmt quelli che vogliono tornare allo stato sovietico no 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 non è così è assolutamente il contrario allora arriva la botta economica si alza il deficit di bilancio la crisi italiana che sta distruggendo il paese sta facendo piangere i nostri figli e sta facendo piangere le famiglie e sta facendo piangere i genitori che vedono i propri figli senza futuro e senza speranza potrebbe essere risolta nell'arco di un anno o due ma neanche di un anno o due se avessimo avuto questa situazione di governo e di potere economico finanziario semplicemente lo stato monopolista della moneta alzava il termostato immetteva spesa pubblica rilanciava l'economia creava la piena occupazione secondo i programmi Moser Economics poi credo che spero che ci sia un banchetto qua fuori che sono questi noi abbiamo scritto un programma leggibile da tutti i cittadini sono solo 40 pagine spiegate proprio alla zia Marta su come è possibile fare quello che sto dicendo e creare la piena occupazione anche in una condizione di crisi come questa poi qui c'è scritto anche come uscire dall'eurozone eccetera eccetera ma insomma voglio dire alla fine questo è quello che noi dovremmo tornare ad avere il cittadino deve pretendere delle cose che sono anche semplici da pretendere dalla politica fate tornare l'Italia a questa situazione di sovranità con un finanziatore di primi stanze tutore termostato dell'economia che ci protegge in caso di crisi che è il finanziatore del settore privato e non solo aggiungo anche il regolamentatore delle banche perché è arrivato il momento in cui secondo la mosa di economics questo è uno dei capitoli del nostro programma ma è arrivato il momento in cui gli stati imparino a prendere le banche e a fargli fare la funzione pubblica che è di gestire i conti correnti e fare crediti punto e li costringono a fare questo abbiamo visto il risultato dell'assefer lasciar fare alle banche guardate cosa hanno combinato indebitamenti del 400% del debito pubblico dei singoli paesi bolle di indebitamento più grandi che si vedono dalla luna allora noi alla politica dobbiamo chiedere le cose semplici vogliamo tornare a questa situazione e una volta in cui siamo in questa situazione poi ce la giochiamo con i partiti ce la giochiamo con i vari indirizzi per carità di Dio no? non è che si chiude il dibattito economico politico per carità magari poi si migliora anche rispetto a noi chi l'ha detto? certo magari un domani arriva qualcuno che dice anche meglio di così ma la base deve essere questa ecco perché la nostra ultima idea che voglio dire qua perché è presente è una sua idea fra l'altro cioè la formulazione finale sua che raccoglie proprio tutto il nostro pensiero che è quella di creare in Italia in questo momento un comitato di liberazione nazionale perché siamo in una situazione di colpo di Stato antiparlamentare anticostituzionale finanziario creare un comitato di liberazione nazionale formato da cittadini transpartitici con delle richieste molto semplici noi stiamo formulando il manifesto con le richieste ma guardate che stasera le abbiamo praticamente già dette ma adesso poi aggiungo poi un dettaglio vogliamo un comitato di liberazione nazionale che dica fermate questa macchina dell'orrore prima che i nostri figli devono fare altri figli e i loro figli altri figli per riuscire in cent'anni a ritornare in uno stato di decenza fermiamo questa macchina di tortura come ha detto Chiara torniamo a questa sanità economica questo dobbiamo fare un comitato di liberazione nazionale perché i partiti non ci capiscono niente i politici hanno fatto i disastri che hanno fatto firmando i trattati non c'è un partito in Italia che stia capendo qualcosa meno che meno il 5 Stelle che doveva essere la novità se non ci muoviamo noi cittadini siamo finiti e concludo e queste sono veramente le mie ultime parole questa sera con un riassunto di quello che il cittadino oggi deve chiedere pubblicamente all'interno di questo comitato di liberazione nazionale dal golpe finanziario europeo abbiamo detto la prima richiesta è questo schema e non lo sto a ripetere perché se no lo ripeterei per la quarta volta ma noi vogliamo chiedere all'Europa che non solo ci permetta di tornare a questo schema cioè ci permetta all'Italia di uscire da questo vincolo assurdo del 3% di spesa deficit ma che almeno ci permette secondo i nostri calcoli calcoli dei nostri economisti di arrivare a un 10% del deficit di bilancio come il Giappone che non sta male non mi risulta sia in Africa ok allora non solo la prima richiesta è quella che l'Europa ci permetta di arrivare di alzare il deficit di bilancio cioè l'immissione di ricchezza per i privati italiani al 10% del PIL ma noi vogliamo anche che questa benedetta banca centrale europea che sta lì a fare un'unica cosa che è la politica monetaria e non fa politica economica un istituto non solo inutile ma distruttivo per l'economia europea accetti finalmente di tornare a fare quello che fanno tutte le grandi banche centrali del mondo che hanno un minimo di salinzucca come in America come in Giappone come in Inghilterra cioè a garantire i debiti sovrani i debiti degli stati allora prima richiesta è questo schema seconda richiesta è saltare il deficit per permettere all'economia di ripartire terza richiesta è avere il debito garantito dalla BCE queste sono le tre semplicissime richieste che il cittadino del Comitato di Liberazione Nazionale deve portare alla politica e all'Europa ovviamente in primi stanza se ci dicono di no come ci diranno di no il Comitato di Liberazione Nazionale sapete cosa fa? lo fa lo stesso e sapete come si fa aumentare un deficit di bilancio? sapete come facciamo noi con queste facce che siamo qua dentro ad aumentare il deficit di bilancio? smettiamo di pagare le tasse smettiamo di pagare l'IVA soprattutto l'IVA la tassa più distruttiva mai pensata nella storia dell'economia perché l'IVA va a colpire i beni reali che sono l'unica ricchezza importante perché tu non mangi non mangi i BTP e non mangi neanche le banconote e neanche le monetine e neanche i centesimi di euro tu mangi beni reali tu dormi in un letto che è un bene reale il tetto è un bene reale della casa il riscaldamento è un bene reale abbiamo bisogno di quello l'IVA va a colpire i beni reali prima cosa smettere di pagare l'IVA ovviamente non chiediamo al singolo cittadino ad andare al macello cioè adesso domani mattina questa signora dice ok io ho un negozio di scarpe smetto di pagare l'IVA l'arrestano tutti se ne dimenticano buonasera no noi stiamo cercando di creare un vero e proprio comitato di liberazione nazionale che chieda all'Europa quelle cose che ho detto e in assenza delle quali smetta di pagare le tasse fino a che il deficit di bilancio dell'Italia non sarà al 10% fino a che l'economia non si riprende quindi sgravi da tutte le parti ma non solo ma non solo a quel punto noi chiediamo che l'Italia si svincoli dai trattati europei chiediamo di ritornare in stato in condizioni di sovranità monetaria per riprenderci con le nostre mani questo stato virtuoso e chiediamo che la carta costituzionale italiana la costituzione italiana ritorni a essere la carta costituzionale che ha fatto questo paese ricco dalle macerie delle bombe della seconda guerra mondiale non quella carta oggi inquinata dal pareggio di bilancio che è la distruzione dell'economia è l'economicidio del paese grazie buonanotte grazie nel concludere questa serata ringraziamo quindi gli ospiti che così sono venuti a raccontarci le cose che avete sentito speriamo di aver fatto una cosa a voi gradita vi ringraziamo per il fatto di essere venuti a trovarci con l'auspicio che le cose che sono state dette sono state ascoltate da noi da voi da me anche stasera siano servite o servano a farci comprendere un qualcosina in più che magari prima non sapevamo lasciando poi diciamo a ciascuno di noi la libertà di trarre ovviamente le conclusioni che più riterranno opportune su quanto si è sentito stasera grazie ancora per aver partecipato